Dalla istituzione del Parco Nazionale Terre del Leopardo, area protetta lungo il confine russo con Cina e Corea del Nord, la sua popolazione dimostra una timida ripresa. Ciò è anche confermato dalle splendide immagini catturate da una fototrappola che ha ripreso un esemplare maschio a est della Transiberiana, a circa 40 km dai confini del Parco Nazionale Terre del Leopardo. Un maschio che curiosamente è stato battezzato dai ricercatori con un nome italiano, Casanova, ovvero Casanova, e una notizia che fa ben sperare per il futuro di questa specie.